Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Ex-presidente molto interessante. Stormy Daniels, benvenuta al programma. Grazie. Innanzitutto, lei è di nuovo al centro delle cronache. Cosa ne pensa di questa storia che sembra non abbia vere fine? È sfiancante. Sembra ci sia sempre qualche novità. Una parte di me mi dice che sono pronta a chiuderla, ma l'altra parte dice che devo lottare finché non avrò ottenuto ciò che voglio. E cos'è che vuole? Che si dimostri che non sono una bugiarda e che coloro che mi hanno maltrattata e infranto la legge rispondano delle loro azioni. In Parlamento i democratici vogliono usare questa vicenda per indagare sul Presidente. Giusto. Lei sarebbe disposta a testimoniare in Parlamento? Assolutamente sì. Crede che vogliano che lei lo faccia? Credo che alcuni lo vogliano e credo che altri abbiano paura che io riesca a farmi valere. Ma posso farlo perché non ho niente da nascondere? E se non dovessero chiederle di testimoniare, cosa penserebbe? Una parte di me vuole che mi fidi del team di legali e delle loro decisioni. L'altra parte credo che si chiederà sempre se fossi stata una persona diversa o se avessi avuto una professione diversa, mi sarebbe stata data questa opportunità? Faceva questa professione anche quando hai incontrato Donald Trump per la prima volta? Sì. L'hai incontrato in occasione di un torneo di golf. Può riportarci a quando l'hai incontrato per la prima volta da sola? Era il 2006, era dopo un torneo di golf e lui mi invitò a cena. Io pensai che fosse molto divertente e che non ci sarei andata. Ero al telefono con un mio amico e lui mi disse «Ma devi andarci!» Che fortuna, sai, farsi consigliare da lui visto che all'epoca era un uomo d'affari molto famoso. Voleva incontrarmi nel suo hotel e avremmo cenato lì ma quando arrivai da lui era abbastanza chiaro che non voleva lasciare la stanza. Perché era chiaro che non voleva lasciare la stanza? Perché era in pigiama. Che tipo di pigiama? Uno di seta nera. Io gli dissi sempre... Certo, sì, non è un capo adatto a una cena. No. C'era qualcun altro? Nessun altro. Aveva una guardia del corpo ma rimase fuori dalla stanza. Allora ha fatto commenti sul pigiama o...? Certo che l'ho fatto. L'ho preso in giro. Gli ho detto «Va a metterti dei pantaloni». E lui l'ha fatto. È andato a vestirsi e abbiamo iniziato a parlare e ha iniziato la conversazione in modo molto presuntuoso parlando di se stesso. Io avevo fame, quindi ero un po' infastidita. Alla fine ne avevo abbastanza del suo vantarsi. Quindi l'ho interrotto e gli ho detto «Sai talmente arrogante, hai mai chiesto a qualcuno qualcosa di se stesso?» Come ha reagito a quel tipo di domanda? Credo che sia rimasto scioccato dal fatto che qualcuno gli parlasse in quel modo. Si mise a ridere. Fu allora che successe la storia delle sculacciate e... L'ha sculacciato con una rivista dove c'era lui in copertina? Sì. Ma lei insiste nel dire che non si trattava di un gesto sessuale? No, non lo era per niente. Ed eravate entrambi sobri? Oh, naturalmente. Lui non beva affatto. Sì, niente alcol. Perché se lo si vede dall'esterno... Ma non era una cosa sessuale. Dopodiché è rimasto un po' scioccato dal fatto che io... Che io avessi fatto quel gesto. Ci siamo seduti e abbiamo avuto una lunga conversazione. Di cosa avete parlato? Voglio dire, su cosa vi siete trovati d'accordo? Mi ha chiesto del mio lavoro, dei dettagli sull'intrattenimento per adulti, tipo se riceviamo delle royalties, se ci sono sindacati, come veniamo pagati, se è a ore. Era un dialogo sul lavoro molto intelligente. Poi parlava del suo show televisivo e di una vacanza che aveva fatto. Insomma, tutte cose normali. Quando ha capito che non si trattava solo di un incontro di lavoro? Quando sono uscita dal bagno. Lui si era spogliato ed era sul letto. Non pensavo... Cosa ha provato in quel momento? Mi sono sentita... All'inizio ero scioccata, direi più esterrefatta, perché non mi aspettavo di trovarlo così. Quindi lei doveva andare in bagno e quando ne è uscita, lui era sul letto? Sì. Completamente nudo o in mutande? No, era in mutande. E poi mi sono detta... Oh no, che cosa mi sono cazzata? Perché non me l'aspettavo? Non ne avevamo parlato. Non era previsto niente del genere. È stata l'unica volta che ha fatto sesso con lui? Sì. E le ha mai chiesto di non parlarne? No. Le ha mai parlato della sua famiglia? Non proprio, forse solo i primi dieci minuti in cui ero nella stanza. Mi ha mostrato una foto di suo figlio, ma è stato un attimo, come se non volesse parlarne. Ha parlato di sua figlia, ma dopo di allora mai più. Sono anche andata a trovarlo nel suo ufficio a New York. Sono entrata nell'atrio, avevano il mio nome, e mi hanno fatta salire nel suo ufficio, nella Trump Tower. Cosa le ha detto di sua figlia? Credo che abbia detto che stava avviando un'azienda di abbigliamento. Io gli raccontai che facevo la sceneggiatrice e la regista. Lui mi disse che gli ricordavo la figlia, che ero intelligente e bella come lei. Ivanka? Sì. Il che è un complimento. Ma hai una parola su Melania? No. Che opinione ha di Melania? In realtà non ce l'ho. Si sentiva come se avesse la coscienza sporca? No, non stavo facendo niente di male, non ero sposata. Non so i loro accordi, per quanto ne so, lei ne era a conoscenza. Nel 2015 ha firmato un accordo di riservatezza, che quindi dovrebbe impedirle di stare seduta qui. Innanzitutto, perché l'ha fatto? Inizialmente un mio amico... Sa, non era un segreto, lo sapevano tutti. Nella mia vita lo sapevano tutti. Quando ci frequentavamo, io lo chiamavo, lui mi chiamava e lo mettevo in viva voce. Gli amici venivano con me a trovarlo, non era un segreto. Sì, a quel punto era anche su internet, vero? Sì, era ovunque. Non avevo intenzione di parlarne perché pensavo non importasse a nessuno. E un mio amico che era avvocato mi fece notare che se avesse ottenuto la nomination repubblicana avrei potuto essere in pericolo. E io ho pensato, ma di che cosa stai parlando? E lui rispose, beh, ti rendi conto che ora potresti tornare a casa e avere un incidente d'auto oppure stanotte potresti andare in overdose. Ma non mi drogo, appunto. Oppure una fuga di gas fa esplodere casa tua e nessuno lo collegherà mai. Ma se si viene a sapere, allora non possono farti niente perché sarebbe troppo evidente. E poi la storia è venuta fuori di nuovo. È riemersa e mi hanno offerto un sacco di soldi per raccontarla, ma io non volevo. A quel punto ero sposata e mio marito non lo sapeva. Non che l'abbia nascosto. È solo che era successo quattro anni prima che ci conoscessimo. E mica lo dici a tutti con chi sei stata prima, soprattutto se si trattava di lui. No, quindi è stato... È difficile trovare il momento giusto per dirlo, vero? Infatti, quando gliel'ho detto, poi sono finita in galera. Ok. Non esiste un modo giusto per parlarne. Insomma, come si fa? Ricordo che mi volevano come ospite a Good Morning America ed ero molto nervosa. Pensavo, non voglio che tutti lo sappiano, perché per la cronaca sono stata con celebrità molto più sexy e mi sono detta, perché non poteva essere uno di loro? Perché deve essere proprio lui? E poi la sera prima mi offrono l'accordo di riservatezza. E io ho pensato, beh, è perfetto perché c'è una traccia effettiva. Così non possono uccidermi. Non può succedere niente di male, c'è un vero documento. E non ho chiesto soldi. Ancora oggi mi chiedo come gli sia venuta in mente quella cifra, perché se insomma... Se gli avessi chiesto... Nessuna trattativa? No, ho semplicemente detto come volete, non ho fatto domande. Come è avvenuta la firma, cioè... Sul bagaglieio di un'auto. Davvero? Solo lei e il suo avvocato? Sì, è un testimone. E a me stava bene non parlarne, ma poi la storia continuava a venire fuori e io non volevo dire nulla. E poi loro mi hanno chiesto di mentire. E la prima dichiarazione che avevo rilasciato in parole povere diceva che io non avevo una relazione in corso con lui. Ma come le hanno chiesto di mentire? Com'è successo? Cohen ha chiamato il mio avvocato e mi ha detto che dovevo firmare questa dichiarazione. Non volevo farlo, ma il mio avvocato mi disse, non è niente, fallo e basta. Così l'ho fatto e poi un paio di settimane dopo hanno chiamato di nuovo e volevano una dichiarazione più specifica che dicesse che non ero mai andata a letto con lui. E io dissi, non mentirò. Vennero nella mia stanza d'albergo quando ero sola e mi dissero, firmala o succederà qualcosa di brutto alla tua famiglia. Non vuoi mica essere controllata? E chi erano questi? Kate Davidson, l'avvocato, un uomo che non conoscevo e la ragazza che aveva messo insieme l'accordo e con la quale non lavoravo più. Non sapevo cosa fare, ho firmato, ma sbagliando di proposito il nome. Ma nell'accordo di riservatezza c'era scritto espressamente che da quella data in poi non avrebbero più potuto contattarmi e io non avrei potuto contattare loro. Ma loro hanno continuato per quattro volte e mi hanno chiesto di mentire. Gli ho detto, no, non potete farlo. Hanno rotto loro l'accordo per primi e poi Michael Cohen ha scritto un libro e nella descrizione di ciò che cercava di pubblicare c'era scritto, come ho salvato il sedere del presidente da questo, questo e quest'altro e il pagamento di 130.000 dollari a Stormy Daniels. E ho pensato, come? Io non posso difendermi e lui pubblica un libro. E ho pensato, è la quinta violazione. Ora parlerò. Quel giorno, quando è uscita la notizia, com'è stato per lei? Quando è successo, ovviamente c'erano i giornalisti davanti a casa mia. C'erano i camion delle tv parcheggiati in strada e cercavano di parlare con i vicini e di scattare delle foto a mia figlia. Era in tutti i telegiornali. Fortunatamente mia figlia già studiava a casa, quindi non dovevamo andarla a prendere a scuola o cose del genere. Così non ha interrotto le sue attività quotidiane, come lo studio. Certo, per un po' non è potuta uscire e andare in giro in bicicletta o altrove. I miei vicini ci hanno aiutati e hanno detto ai giornalisti di andarsene via. L'ha spiegato a sua figlia? Lei, lei sa chi è il presidente ed è buffo perché la social film Mamma ho perso l'aereo 2. E ho detto, aspetta, cosa? Mi ero completamente dimenticata che lui fosse nel film, ma lei mi fa, oh, il tizio di Mamma ho perso l'aereo 2 è il presidente e lì ho pensato triste, ma vero? Pensavo se solo potesse capire quanto è ridicolo tutto questo e poi ha capito. Quindi lei sa che lui è il presidente, che la mamma lo conosceva e che alla gente interessa sapere che uscivamo insieme. Non sa cosa sia il sesso, quindi... Mentre noi parliamo qui a New York, lui è a pochi isolati da noi, cosa... Mi è sembrato di sentire l'odore. Ci ricorda quell'odore? Ricorda il suo odore? Old Spice. Usava quello? Sul serio? Se ne mette molto. Se lo incontrasse... Se lo incontrasse per strada, fuori di qui, cosa gli direbbe? Mi metterei solo a ridere. Veramente? Sì, cioè, lui non è mai stato cattivo con me. Voglio dire, forse mi ha ingannata, in realtà non credo nemmeno che l'abbia fatto. Credo che le sue intenzioni fossero chiare. Ma sì, penso che ora ci sia qualcosa che non va in lui e che stia degenerando un bel po'. Perché non sembra neanche più capace di formulare frasi complete, mentre io sono stata a parlare con lui per tre ore e non mi sono buttata dalla finestra dopo che l'avevo scuracciato, però... Cioè, dopo che l'avevo messo al suo posto, era tollerante. Ecco, ma lui la voleva nel suo show, vero? Sì. Era uno dei suoi propositi. Sì. Ma crede veramente che volesse tentarla con uno show per poi in realtà ottenere qualcos'altro? Credo che l'abbia anche vista come un'opportunità per fare scalpore, perché è questo che gli piace, essere provocatorio. Com'è oggi la sua vita? Interessante. Lavora ancora nello stesso campo? Sì, lavoro ancora nell'industria dell'intrattenimento per adulti. Faccio ancora spogliarelli, ballo, scrivo e dirigo film. Non lo faccio da diversi mesi perché sono stata molto occupata e poi sto rimbecchiando, ovviamente. Quarant'anni sono molti. Gli anni nel porno si contano come per i cani. Sono come il gente del porno. Quindi mi sono dedicata ad altre cose. Ho anche scritto un libro a cui lavoravo da anni, prima ancora che accadesse tutto questo. E il suo libro è uscito anche in Scandinavia. Sì. Grazie mille, Stormy Daniels. Grazie a lei. Grazie, grazie infinite. Grazie mille.